Un diciottenne fanese e un diciassettenne romagnolo sono stati arrestati dai carabinieri alle prime luci dell'alba. Entrambi sono indagati per presunta violenza di gruppo nei confronti di una sedicenne avvenuta a Rimini lo scorso 5 agosto. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal tribunale di Rimini e da quello dei minori di Bologna dopo un'attività investigativa che prese avvio dalla richiesta d'aiuto della ragazza che all'epoca dei fatti chiamò il 112 raccontando di essere stata abbandonata in strada dopo aver avuto rapporti sessuali non consenzienti con due giovani conosciuti su Instagram. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della ragazza confusa e disorientata trovando riscontri di presunta violenza anche dalla successiva visita in pronto soccorso. Avviata l'indagine acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona i carabinieri hanno individuato l'autovettura in cui fu fatta salire la minorenne. Identificati due soggetti l'ipotesi accusatoria è stata avvalorata dalla comparazione dei DNA effettuata successivamente dai carabinieri dei RIS di Parma che confermavano la connessione di tracce biologiche tra la vittima e i presunti colpevoli. Il 18enne fanese è ora recluso nel carcere di Rimini e il 17enne romagnolo in quello dei minori di Bologna. Quanto alla ragazza è emerso che avrebbe caricato online delle sue foto con una sorta di listino prezzi che ha suggerito agli inquirenti anche un'ipotesi di prostituzione minorile. Dalle indagini è emerso che la vittima è seguita già da un anno dai servizi sociali per una grave dipendenza dal social network.